Siamo nella sala di doppiaggio in cui avviene il corso di doppiaggio, ormai famoso, lo facciamo da tantissimi anni, esattamente dal 1988, pensate un po', io e Marco Trevellato, che insomma siamo la coppia ormai fissa, come insegnanti, e quindi siamo abbastanza collaudati. Molti mi chiedono, quando mi telefonano per avere delle informazioni, ma com'è la sala? È grande? E vedete, è grandissima, si possono fare i campi, ci si può muovere davanti al leggio, si impara a usare il microfono, quindi è molto interessante. E poi ci sono dei film bellissimi da doppiare, film addirittura che alcuni li ho persino adattati io, per cui giochiamo in casa, ma poi ci sono film di grande livello e soprattutto serial di grande livello. Il corso è essenzialmente pratico, ci sono queste 45 lezioni da 2 ore, 90 ore di stage, che sono al leggio, dove si impara veramente a doppiare qualunque tipo di prodotto, da un bel film a un buon telefilm, a un reality show, a un documentario, ai cartoni animati, quindi si impara anche a usare la voce caratterizzando. Cosa posso dire ancora? Che il corso inizia a metà fine settembre, ci sono ancora dei posti liberi, quindi ci rivediamo a settembre. Grazie.